bene sono molto contento perché chiaramente abbiamo vinto 3 a 0 questa sera contro lo zoo green e devo dire che non è stato facile perché comunque il primo 7 al terzo sera abbiamo vinto 26 28 quindi questo dimostra anche una grande grande carattere da parte delle ragazze nel non mollare non perdere la pazienza nei momenti critici e aver poi la personalità e la volontà di ottenere un obiettivo con fatica e questo è un buon aspetto di crescita da parte delle ragazze la partita inizialmente è andata via un po' male per noi nel senso che siamo andati via un po' pari punti andiamo massiati su un punto loro un punto noi fino tendenzialmente al 24 pari così il problema è stato che noi non abbiamo molto non siamo stati molto incisivi in battuta commettendo comunque tre errori e poi Rossi che era in difficoltà perché abbiamo lavorato un po' sulle traiettorie d'alzata per portare lento lassù per quindi palle un po' più tese e in questo metteva nettamente in difficoltà tutti gli attaccanti comunque poi è brave portarsi a casa del set nel secondo stelle ho detto di rallentare un po' le palle e di dargli un po' più di parabola e lì noi siamo stati molto brave soprattutto in battuta servendo con una certa continuità abbiamo preso di mira la numero 9 anche il libero e soprattutto è saltato un po' il libero in ricezione e poi di conseguenza la squadra è quindi stato un set abbastanza facile e anche un po' bugiardo perché alla fine abbiamo vinto a 9 e quindi non è di certo il reale valore della squadra avversaria terzo set siamo partiti via ancora un po' maluccio noi ho dovuto subito chiamare un time out mi sembra sul 5 a 1 per loro perché Marinoni si è trovato in una posizione dove non riusciva a mettere giù palla si è nervosita dopo siamo riusciti a risolvere la situazione siamo andati via un po' a pari punti e poi sono andati via ancora loro 16 a 11 e quindi erano più 5 loro abbiamo poi pian piano riuscati i punti e siamo andati ancora ai vantaggi ma ci siamo ancora bloccati un attimo prima sempre con Marinoni che in questo periodo qui ha qualche problema di troppo a mettere giù palla chi mi ha veramente stupito in positivo è stata Gasparini che ha avuto una grande qualità in attacco e una grande personalità per quanto riguarda ricezione è abbattuto anche con una buona intensità e continuità pertanto in assoluto Gasparini è MVP oggi perché è stata sempre molto ripresa perché dimostrava poca continuità dimostrava di fare le cose un po' così come gli venivano e invece sta dimostrando di crescere con grande personalità e dimostrando anche una certa maturità poi tutte brave insomma quando si vincono le partite in questo modo qua si può fare solo i complimenti a tutte quante le ragazze sono finalmente soddisfatto per il risultato ma anche soprattutto per l'atteggiamento perché l'hanno voluto vincere e l'hanno ottenuto